ciao ragazzi benvenuti in questo nuovo video sono sono tornato dopo dopo un po di tempo per appunto per esprimere tutto il mio disapunto per quanto riguarda quelle persone dico quelle persone perché chiamarle tifosi sarebbe sarebbe un'offesa alla categoria del tifoso che ieri hanno criticato pioli per la formazione messa in campo ma scusate signori miei ma non eravate voi che volevate il cambiamento che volevate essere più coperti che volevate prima non prenderle e poi si andava bene si andava bene fare gol allora perché vi lamentate di tutto questo scusate io ho sentito delle critiche assurde da parte di di persone che prima chiedevano a gran un po c'è il cambiamento ma e ieri tutto a un tratto hanno criticato pioli perché non ha praticamente giocato il derby il primo tempo è stato giustamente perché anche per me è stato così che è stato è stato indecente da parte del milan ma signori quelli che volevano il cambiamento sono stati accontentati poi non vi lamentate se il milan è questo poi io sono non sono mai stato un po autore del cambiamento io ho sempre sostenuto che il milan che il milan dovesse andare avanti così come ha sempre giocato e ieri ne è stata una prova ieri è stata ancora una volta la conferma se mai ce ne fosse se mai ce ne fosse bisogno che ascoltare i tifosi non serve una società un allenatore serio non deve ascoltare i tifosi perché si ascolta i tifosi ma incontro al fallimento e con questo ho detto tutto lasciate un mi piace e un commento se volete iscrivetevi non so non so quando farò il prossimo video quindi se volete iscrivetevi se non sapete stare pazienza e ci vediamo magari ciao sempre forza mila sempre forza mila io io non abbandonerò mai il mio ciao a tutti